Le sfide sono molte, queste persone fanno un lungo viaggio attraverso il Mediterraneo partendo dalla Libia, è una sfida molto difficile trovarle, trovare le barche in mezzo al mare e farle arrivare in modo sicuro a bordo della nostra nave è un'altra sfida che dobbiamo affrontare tutte le volte. In questa operazione in particolare abbiamo avuto a bordo almeno 8, 9 se non di più nazionalità diverse, tutte persone che hanno fatto un lungo viaggio per arrivare dai loro paesi fino alla Libia in condizioni estremamente difficili e poi altre tante difficoltà per dalla Libia arrivare in Europa attraversando il Mediterraneo. La prima azione che facciamo è ovviamente tirarli fuori dalla barca e dopodiché vengono tutti monitorati dal punto di vista sanitario, quindi ricevono uno screening medico. Successivamente passiamo, in questo caso abbiamo passato due giorni insieme in uno spazio molto ristretto, 342 persone da assist, a cui abbiamo dato cibo, acqua e l'attenzione di cui avevano bisogno.